Ci sono i momenti giusti per parlare, interagire e restare in silenzio, nella vita, come in un programma TV. L'elemento chiave? La tua personalità. Per raggiungere il pubblico, ti devi emozionare. Che tu voglia diventare uno speaker, un presentatore TV, o fare una buona impressione in un colloquio di lavoro, ti occorrono gli strumenti giusti. Dalla corretta edizione, all'uso della voce, alla gestualità in TV o su un palcoscenico, alle espressioni del volto, fino al movimento del tuo corpo. Ti insegnerò ad esprimerti al meglio. Ti aspetto.